signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale settimana scorsa avevamo fatto un video su come introdurre l'ambientazione in cui andrà a svolgersi la quest ai giocatori a seguito una domanda che aveva fatto giorgio gandolfi inizio della stagione in quel video abbiamo visto le cose dal punto di vista del master e vi avevo già anticipato che ci sarebbe stata una seconda parte di quel video appunto nella serie per i giocatori se infatti molto spesso si dà per scontato che sia solo un problema del master presentare il mondo di gioco i giocatori nella realtà questo non solo non è vero ma non sarebbe il caso di farlo neanche se fosse in qualche modo la maniera preferibile quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere perché dovete essere voi giocatori a informarvi sul mondo di gioco in prima persona e anche un paio di parole sul come fare a farlo per prima cosa vediamo di fare due parole sul perché sia importante per voi giocatori apprendere più informazioni possibili sul mondo di gioco ancora prima di cominciare a giocare e ovviamente durante il gioco stesso questo è un discorso che poi mente può sembrare scontato per alcuni ma dato che moltissimi giocatori non ritengono che sia loro dovere informarsi sul mondo di gioco evidentemente non lo è quasi sempre questo si ricollega al falso mito che la buona riuscita della campagna dipenda solo ed esclusivamente agli sforzi del master e tutto quello che si chiede ai giocatori e di presentarsi al tavolo con la scheda in mano e non debbano avere altre preoccupazioni questo non è vero il gioco di ruolo è una forma di arte narrativa collettiva quindi per la buona riuscita di una quest o di un'intera campagna serve che tutte le persone al tavolo ci mettano impegno e ci mettano competenza in quello che fanno il master può avere un ruolo di coordinamento di referenza per vari aspetti del gioco ma se il resto del tavolo non collabora a questo il master da solo non può andare al di là di un certo limite più voi giocatori sarete preparati meno tempo bisognerà perdere dietro spedagazioni e rimandi a manuali regole o quant'altro e quindi più tempo ci sarà per le sessioni di gioco vere e proprie nel caso che tratteremo questa settimana andiamo a vedere la preparazione sull'ambientazione essere coscienti del mondo di gioco all'interno del cui il vostro personaggio si dovrà muovere vi permetterà di far scorrere molto più velocemente la trama e il gioco di per sé ovviamente non si dà per scontato che diventiate dei massimi esperti che sono in grado di citare a memoria ogni riga di ogni romanzo di ogni libro uscito su quell'ambientazione non lo si portende ovviamente neanche per il master ma avere un minimo di idea su cosa l'ambientazione comprende quali sono le sue principali zone geografici movimenti politici altri aspetti più fantastici del mondo di gioco sicuramente vi permetterà di far reagire il vostro personaggio e di farlo ragionare in una maniera molto più simile a quella che farebbe un reale abitante di quel mondo di gioco e quindi aumenterà anche la verosimilianza dell'ambientazione oltre a rendere le scene che appaieranno in gioco più coerenti con quello che è il mondo di gioco stesso nella vita reale se incontraste una persona che vi dice di venire dal giappone non rimareste a guardarlo con l'aria imbambolata aspettando che una voce narrante vi spieghi cosa significa questa frase probabilmente non sarete i massimi esperti della cultura dell'arte nipponica ma che in giappone fanno il sushi e i cartoni animatico e robot giganti probabilmente lo sapete il resto potrete impararlo frequentando quella persona allo stesso modo il vostro personaggio dovrebbe avere informazioni anche se pur vaghe su altri elementi dell'ambientazione in cui egli stesso vive al di là di questo comunque conoscere come funziona l'ambientazione in cui si muove il vostro personaggio ha due scopi pratici il primo riguarda i temi e la filosofia in generale di tutta l'ambientazione quasi tutte le ambientazioni hanno un tema centrale che viene rafforzato dalla filosofia o dalla logica in base a cui quella ambientazione è stata scritta che sia l'esistenza di una società parallela e segreta a quella che noi tutti conosciamo che è popolata da creature magiche e pericolose che contraddistingue il mondo di tembra del dell'omonima serie della white wolf vampiri lupi mannari changeling tutti quei manueli al più semplice al di fuori delle mura della città ci sono le terre selvagge piene di tesori e pericoli che è la base della maggior parte delle ambientazioni di dnd quasi sicuramente almeno se il vostro master sa fare il suo lavoro le avventure che andrete a vivere in queste ambientazioni saranno pensate per rafforzare questo tema centrale dell'ambientazione se voi avete capito e compreso qual è la logica attorno a cui ruota l'ambientazione per voi non solo sarà molto più facile capire che cosa dovete fare per risolvere la quest ma anche come fare a farlo con il minimo di frizione possibile nella maniera più coerente possibile con cui il vostro personaggio agisce all'interno del mondo di gioco detta in parole molto semplici le ambientazioni di dnd si basano sulla logica che i problemi vengono risolti da avventurieri andando a uccidere mostri nei dungeon non solo andare a uccidere mostri nei dungeon per risolvere problemi dovrebbe essere perfettamente logico e razionale per il vostro personaggio ma probabilmente quando il master farà parlare uno dei png dicendo che c'è un problema molto probabilmente troverete la soluzione a quel problema in fondo al dungeon più vicino dove siete il secondo è uno scopo molto più pratico se avete informazioni sull'ambientazione che vi circonda saprete dove andare a trovare quello che serve al vostro personaggio che sia il posto dove vendono le migliori armi e equipaggiamenti che sia quali organizzazioni condividono i vostri stessi ideali e quindi dove andare a trovare potenziali alleati il master probabilmente introdurrà queste cose man mano durante la durata della campagna ma se voi ne avete già un'idea preventiva potreste fare in modo di rendere molto più organico il vostro inserimento in questi concetti magari cominciando a far ricerche cominciando a far fare ricerche al vostro personaggio molto prima e queste cose vengano introdotte in campagna a un livello ancora più basilare sicuramente sapere qual è la logica attorno a cui gira il mondo vi renderà molto più facile semplicemente avere a che fare con i png probabilmente il master li farà agire in base a quella logica per rafforzare i temi dell'ambientazione quindi se qualunque volta voi proporrete qualcosa a questi png con un discorso che riguarda la logica stessa dell'ambientazione è molto più probabile che il vostro piano la vostra proposta alleanza quello che è venga accettata con minime discussioni bene chiarito perché dovreste informarvi sull'ambientazione andiamo a vedere dove sarebbe meglio che voi andiate a trovare queste informazioni su internet non stiamo a girarci intorno su internet ovviamente state guardando questo video su youtube quindi immagino che la vostra scelta su dove andare a informarvi sulle cose sia proprio la rete se l'ambientazione che state usando ha avuto anche solo un minimo di rilevanza quasi sicuramente troverete blog o articoli che ne parlano e quasi sicuramente da qualche parte qualcuno ci avrà fatto un video di youtube a riguardo se però è scontato che le cose si trovino su internet fate attenzione perché soprattutto con ambientazioni molto vecchie o molto complesse non tutte le informazioni che trovate potrebbero essere rilevanti magari potrebbero essere arretrate non essere mai state aggiornate o trattarsi di qualcosa di fan made che non necessariamente fa parte del canone ufficiale di quell'ambientazione fate attenzione però che soprattutto per ambientazioni molto vecchie e molto particolareggiate per quanto sia scontato che troverete tutto su internet potrebbe trovarvi davanti al problema contrario cioè il fatto che la mole delle informazioni anche per alcuni aspetti che voi magari ritenete minori è talmente tanta da renderla fondamentalmente ingestibile come quantità di informazione qui sul canale del Master Kai a conoscere McWarrior siamo letteralmente contati in tre Sarna.net che è la wikia dell'ambientazione dedicata creata dai fan ha poco più di 42.000 voci prima di tuffarvi a capofitto e cercare di assorbire tutte queste informazioni che potrebbe essere un lavoro letteralmente impossibile fermatevi un attimo e riflettete su che cosa è meglio che cominciate a studiare molto probabilmente le prime cose che dovete andare a cercare sono informazioni su il tipo di personaggio che volete interpretare che sia una classe, un archetipo o comunque lo chiami il gioco e magari sulla zona geografica in cui il Master ha detto che l'ambientazione inizierà o comunque prenderà atto la campagna da lì poi ovviamente potete espandervi ma non è qualcosa che necessariamente dovete fare in previsione delle prime sessioni se vedete che poi l'ambientazione vi piace, vi appassiona e volete approfondirla avrete tempo per andarvi a leggere e ascoltare tutti i video di YouTube che volete durante poi lo svolgimento della campagna e piuttosto anche dopo molto probabilmente su internet troverete anche forum o comunque aggregatori di contenuti dedicati e gestiti dai fan queste comunità sono ottime per avere informazioni soprattutto perché molte di loro hanno già delle fanzine o comunque del materiale pensato appunto per introdurre i nuovi giocatori e quindi magari trovando una di queste comunità potreste trovare esattamente quello che vi serviva già preparato perché non siete il primo ad aver avuto domande sull'ambientazione per quanto cercare su internet sia ovvio comunque non dimenticate che quasi sempre il manuale di gioco contiene almeno una sinossi dell'ambientazione pensata proprio per introdurre i nuovi giocatori a quel mondo di gioco quindi comunque il manuale dovrete leggervelo per le regole quindi non è un grande sforzo aggiuntivo leggersi anche quella parte almeno per farsi un'idea minima di quello che gli autori del gioco stesso ritengono siano le informazioni minime necessarie per poterci giocare prima di chiudere un paio di parole sul fair play e il buon gioco la filosofia del buon gioco sì non mi sento realizzato se non sono pedante in ogni video io in questi due video ho approcciato la preparazione dell'ambientazione da due punti di vista diversi questa settimana in quello per i giocatori e la settimana scorsa in quello dal punto di vista del master ma queste due cose come già detto all'inizio del video non sono affatto cose esclusive che corrono su due binari paralleli la responsabilità di reperire informazioni su come funzioni effettivamente il mondo di gioco all'interno di cui volete andare a giocare è di entrambi ed è qualcosa che probabilmente funzionerà molto meglio se viene fatta assieme se non letteralmente collettivamente il master dovrà reperire le informazioni che gli servono per gestire la sua campagna da qualche parte che sia su internet, che sia sul manuale, che sia su romanzi una volta che avrà riferito quelle informazioni per la preparazione delle sue quest nulla gli vieta di dire ai giocatori di andarsi a cercare informazioni dove ha cercato lui condividendogli link dei video, dei blog, di quello che è sul vostro gruppo di campagna e allo stesso modo i giocatori che trovino informazioni interessanti le possano passare al master sia per vedere se gli servono ma anche solo per avere un commento il master potrebbe aver deciso di gestire le cose in maniera diversa quindi prima di dare per scontato tutto quello che avete visto su quel video di youtube sia vero anche per la vostra campagna chiedete al master inoltre dovreste anche discutere tra di voi su cos'è che vi interessa di più all'interno di quella ambientazione che cosa vi interessa di meno potreste chiedere al master di concentrarvi praticamente su alcuni aspetti del gioco a discapito di altri magari in un'ambientazione vi piace particolarmente la natura delle sue fazioni politiche ma non vi interessa tutta la parte legata al combattimento o viceversa se parlate francamente tra di voi avrete più possibilità di trovare qualcosa su cui tutti siete d'accordo e quindi il master potrà preparare una quest che sa già che vi diverte e che sa già su quali informazioni dovrà basarsi per essere comprensibile anche per i giocatori in più valutate tutto il materiale che avete trovato tra di voi anche solo per vedere che cosa è effettivamente materiale utilizzabile o che cosa a voi non serve per la gestione del gioco ma avete in mente so di sbalordirvi ma non tutto quello che trovate su internet è necessariamente vero ovviamente sia in questo video che nel precedente ho dato per scontato che voi stiate preparando una campagna che sia ambientata all'interno di una qualche ambientazione ufficiale comunque esterna alla produzione interna del tavolo ovviamente se l'ambientazione è stata scritta dal master o da un altro dei giocatori sarà quel giocatore a dovervi fornire tutte le informazioni e sarà la responsabilità sua spiegarvi come funziona il suo mondo immaginario e comunque queste due cose non necessariamente si escludono a vicenda potreste giocare in una versione fortemente personalizzata di un universo narrativo più ampio o qualcosa che incorpori elementi di altri universi con del materiale creato da voi ma questo sarebbe un discorso talmente ampio che ne parleremo poi in un video tra qualche settimana e sì da una singola domanda che mi hanno fatto ci ho fatto una miniserie pensate quanto è divertente per quelli che mi conoscono farmi una domanda e sentirmi parlare per un'ora per questo video invece è tutto come sempre se avete domande, dubbi, perplessità scrivete nei commenti qui sotto e scrivetemi anche quali sono i vostri modi come fate voi a informarmi quando dovete prepararvi per una nuova campagna in un'ambientazione che magari non conoscete come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo ho potuto accrescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al gruppo e discord al canale telegram dove metto io i link dei video manualmente quando escono e trovate il resto della comunità e il mastercae per il resto io sono il mastercae e noi ci vediamo nel prossimo video